Grazie, grazie dell'applauso spontaneo, grazie. Sono veramente felice di essere qui in questo bellissimo locale e solitamente quando entro in un locale così, con la mia ragazza, giovane e carina, sento sempre bisbigliare le mie spalle. Sta con lui perché ha i soldi. Sta con lui perché c'era grosso. Mai nessuno che si chieda, e se fosse semplicemente cieca? Comunque, come state? Non ve l'ho ancora chiesto nessuno? State bene? Tutti bene? No, che me ne freghi qualcosa, ve lo chiedo per me, per non prendermi qualcosa più che altro. Non vorrei rifarmi un'altra quarantena, visto che l'ho già fatta molto lunga. Tra l'altro ho passata in casa con la mia ragazza in mesi in cui ci siamo sfondati di film, serie tv, poi ci siamo dovuti rassegnare a scopare come ricci, anche perché i centri estetici erano chiusi e io non potevo depilarmi. Però ci tengo a sottolineare che l'abbiamo fatto nel rispetto delle normative anti-Covid, ovvero a pecorina. Secondo me inutilmente, perché lei continuava a tossirmi sulla schiena, quindi non credo che servisse molto. Grazie. E poi abbiamo fatto le cose che facciamo tutti durante la quarantena, no? Videochiamate con amici, con parenti, tutti a lamentarsi perché toccava stare segregati in casa oppure uscire tutti tappati. L'unica che non si è lamentata è stata mia cugina sposata con un musulmano. Ma vabbè, insomma, non è che le cambiasse molto. No, vabbè, non voglio passare per razzista, si sta scherzando. Anzi, ci tengo a sottolineare che non sono razzista, ma quando ero piccolo lo ero. Cioè, o meglio, non è che fossi razzista. Semplicemente avevo paura dei neri. Mia mamma mi raccontava che come ne vedevo uno, cominciava a piangere. Poi, crescendo ovviamente, la paura è passata, si è trasformata in, mi spiace, erano spiccioli. Quella bici è mia. 20 euro per una pompa. Invece, sono rimasto sconvolto dal comportamento di mia nipote di 5 anni. L'altro giorno siamo andati a mangiare un gelato e quando andiamo a mangiare qualcosa, lei porta sempre con sé un bambolotto diverso, questa volta si era portata a un bambolotto nero che è chiamato un butungu, che tratta di merda. Cioè, lo picchia sul muro, gli dice cose orribili, tipo i terremotati nelle tende e voi negli hotel a 5 stelle con il wifi. Cioè, è assurdo che una bimba di 5 anni sappia cosa sia un wifi. Cioè, veramente... Comunque, a parte questi evidenti comportamenti da casa Pound, io ho scoperto in gelateria che i bambini possono essere davvero dei pezzettini di merda. Eravamo a mangiarci il gelato lì ai tavolini. Ovviamente pago io perché fegiamoci se lei tira fuori un euro. A un certo punto arriva una sua amichetta nigeriana insieme a sua mamma, ovviamente entrambe di colore. Le bambine si scambiano due parole senza senso, due saluti. Poi a un certo punto la sua amichetta le chiede se può giocare con un butungu. E lei le risponde no, perché me lo rubi. Voi ridete, ma io invece ho cambiato colore proprio. È involontaria questa. Però proprio non ci ho più visto dalla rabbia. Io gli ho strappato un butungu di mano e l'ho data alla sua amichetta. E poi le ho detto vergognati, non ci si comporta così con gli altri. Bisogna essere gentili perché magari un domani sarai tu quella a essere discriminata. E lei mi ha guardato e mi fa perché se mi comporto male divento negra? Vedete, per essere razzisti non è indispensabile essere ignoranti, stupidi, chiusi mentalmente, gretti, disonesti intellettualmente. Basta semplicemente ritenersi migliori o superiori agli altri per esercitare ognuno la propria intima e personale forma di razzismo. Vabbè, ma voi che cazzo ne vorrete capire, dai! Ciao! Grazie a tutti